allora buongiorno a tutti oggi siamo sul lago d'iseo precisamente a pisogne in provincia di brescia a richiesta di alcuni di voi che hanno visto i nostri filmati sul rifugio medlet oggi abbiamo deciso di fare il giro però accorciandolo quindi non salire dalla parte del versante del guglielmo ma salire direttamente verso il rifugio per poi scendere per la bellissima discesa che ci riporterà a pisogne siamo anche oggi con la scott e spark abbiamo capito che oramai il dislivello è circa sui 1.600-1.700 di durata della batteria oggi quindi staremo sempre su quella altezza lì per vedere insomma di confermare quanto abbiamo visto ieri spettacolo